eravamo rimasti a pagina 92 un po' Intorno al 1916 il mito del moderno ci ha declinato dall'artista in simbologie figurali che traducono in termini decorative e letterari l'ansia di esprimere il tempo nuovo che agita dall'interno la dinamica formale di un boccioni e di un balla smuore in snervate cadenze di ascendenza floreale. La sirena del 16 è un'opera di notevole qualità formale di prevalente interesse sul piano del gusto. Il grafismo floreale si esaurisce in un semplicismo compositivo che assottile i ritmi complessi del simbolismo europeo e l'immagine si prospetta come un manifesto estetizzante povera di intrinseca vitalità ideale quanto di soluzioni plastiche e formali. Si pensa al rigorismo formale di Canegallo negli stessi anni e all'identità che muove il pittore sestresa Scusate, è all'idealità che muove il pittore sestresa e si avrà un termine di comparazione interessante Un termine di paragone Interessante Sta gente non sa l'italiano Come Domingo Motta, che già nel 1901 a Parigi, presso la Galleria Ciocio Petit presentava un complesso di opere ovvero le sfumature delle tinte sono create di preferenza attraverso velature dei tre colori fondamentali Gioranzani si proposa di interpretare il pontinismo secondo il principio della creazione di ritmi compositivi che si rifanno alle misure sante nel significato goetiano Santo è ciò che crea armonia Questa dominante tendenza scientifico-meccanicistica perverde l'ambiente genovese intorno alla fine del primo decennio del secolo Domingo Motta ha progetto un suo cronometro sorta di strumento per la scomposizione dei colori ai fini della stampa in tricromia e mette a punto un prontuario per la traduzione dei suoni in colori Il percorso di Motta è singolare e dà iniziali posizioni realistiche che rimangono in ogni caso alla dominante di fondo della sua arte anche quando essa prende una svolta divisionistica o simbolica simbolista, scusate con occhiggiamenti al dinamismo futurista trabalica appunto all'interesse di natura scientifica poi contraddetti da successivi ripetuti corsi e ricorsi e realistici la metropoli del futuro che è del 18 si imparenta con la coeva folla di sexto canegallo sia per l'istanza contenutistica di illustrazione del mito del moderno in chiave di ossessione e di angoscia sia per le soluzioni figurali che al di là dello pseudo-scientificismo divisionistico non possono essere intese che in chiave simbolistica tanto che più che questi dipinti interessanti in ordine alla necessità di chiarire le complesse componenti che confluiscono nell'ambiente ligure nei primi decenni del secolo un autentico valore di morte regibile in opera e quali lo spacca pietro dipinto ancora nel 1898 questo dipinto riprende il grande esempio Corbettiano e il tema sociale appare seriamente condotto ad un approdo di risentito realismo Gioranzani impresse successivamente alla sua pittura la svolta realistica mantenendola nella franta dinamica della pennellata e nella libera impostazione spaziale del tema traccia dell'esperienza compositiva del periodo divisionistico le sue opere anche se rivelano una sapienza cromatica d'eccezione e tra loro un senso politico astraente dal semplicismo dei temi trattati denunciano tuttavia un ripiegamento dalle posizioni d'avanguardia che l'artista con tanto impegno aveva sostenuto Enrico Castello di Tocchino accedo intorno al Milano 115 all'esperienza simbolista venuto in contatto insieme a Caregallo con Romolo a Milano dove era giunto alle 11 subito accolto nell'ambiente dei pittori futuristi Già attenti al divisionismo fantasmico di Gaetano Prebiati e alle significazioni plastiche della linea nell'arte della Romagna Kien si accosta immediatamente al simbolismo E' chiaro che l'esperienza di Kien come quella di Geronzani e di Canegallo si rifalla alla simbolista che direttamente discende dal neoimpressionismo dissegurato nelle teorizzazioni date da Felix Fenero Al simbolismo monaccense e austriaco può riportarsi invece tanto all'esperienza del nome Lini che di Domenico Guarello e dello stesso Marello In una posizione intermedia si trova il simbolismo di Prebiati dibattuto tra la pura espressione dei valori armonici della linea e del colore E' la suggestione dei temi di natura letteraria E' quindi comprensibile per la presenza massiccia dell'opera del Prebiati a Genova E' per l'ascendente che essa ebbe nell'ambiente artistico ligure Come siano nati gli equivoci dalla contraddizione vissuta internamente all'opera del maestro che hanno condotto al torbido simbolismo dei Natino di Sant'Agata di altri occasionali aderenti Dalla teoria di Fenéon sull'armonico comportamento di ritmi scansioni, miniari, rapporti e coloristici dal concetto delle variazioni armoniche perpecie e dalla convinzione di Romolo Romani secondo la quale per ottenere la significazione e l'esperienza pittarica di un qualunque stato d'animo umano di un qualunque fatto o fenomeno naturale basta partire dalla rappresentazione anatomica fisica o geologica di una massa esprimerla linearmente così la definire nel reale contenuto esagerandola, ricomponendola, ingrandendola moltiplicandola poi con i sussidi del colore del chiaroscuro secondo i propri intenti per giungere all'interna immagine psichica mentre la successione e l'intensità degli atti interpretati devono appunto dare la misura della parada e il risultato discordante così nelle conseguenze come nelle premesse da qualunque forma vera deve giungere ad esprimere un simbolo l'idea della sua reale necessità dicendo dell'esperienza del filone scientifico del simbolismo animal semmo a patina 92